Alcuni tessuti in mazzetta non rendono, non sono belli quanto realizzati e questo è un esempio tipico. Si tratta di un grigio molto chiaro, non il grigio chiarissimo, un punto appena più scuro e devo dire che in mazzetta viene scelto poco. Quando però viene realizzato immediatamente il tessuto prende vita, prende corpo e i clienti comprendono la bellezza e l'importanza della stoffa e di questo punto di colore in particolare. In questo caso abbiamo un modello standard di Tal Sarto, un modello classico, un modello importante, due bottoni, river classico, tasca e pattina, che è stato abbinato con questo bel gilet, quindi un bel tre pezzi, monopetto, quattro bottoni con lo scollo a V e di nuovo abbiamo abbinato questa fodera bellissima, storica della nostra sartoria, Questo blu disegno cashmere che si abbina molto bene non solo al colore dell'abito ma anche alla cravatta selezionata che è questo bel blu chiaro con questi pois bianchi veramente raffinatissimi. Ed è un capo perfetto per appuntamenti business di livello, per un utilizzo chiaramente da giorno e per una persona che ha già qualche capo nel armadio e desidera un prodotto che esca un pochettino dalla banalità dei prodotti che si vede in giro. E devo dire che sono molto soddisfatto alla realizzazione e credo che lo sarà anche colui che lo indosserà. Spero che l'abito e che il video vi siano piaciuti, ci vediamo da Tal Sarto.